Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ma fai cagare porco diaz! Minchia fai cagare! Madonna non fate un cazzo! Di parlare giapponese porco diaz e non avete una cazzo di idea di merda acquittate sto gioco è andata a disegnare sui chicchi di riso Porco diaz! Oh vaffanculo a sorda che la buttare mamma Ah vaffanculo a madre! Vaffanculo a madre! Porco diaz! 26 minuti! Per caso c'è movimento in queste zone ma Meicoli un po' brutti Vado un po' più fast C'è il bottazzo Vengaggio Ehhh Abbiate i miei occhi e guardate Ok Prendete il stilto No katana No katana Seguimi Ok Ok Eh No 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 Ehhh Ehhhh Chiedo No raga sono un coglione raga Dai raga Eh dai raga ho sbagliato figa Il gialla gialla sono 10.000 Gimani Dai raga non volevo scambi- Lo capite che non sto capendo nulla Lo riuscite e non riesco a capire le cose incastrate nei cosi Rara è umano raga Dai raga ho bruciato tutto Ehi vi chiedo scusa La partita non fa tanto che grabbarmi Beh ci sta Ognuna ha proprio cose nella vita Falliti di merda Andiamo Riprenda la mentalità perché io lo sto Sto già per arrabbirmi eh Ce l'ho la mentalità Ce l'ho la mentalità non si arrabbi vai astardi di merda scoppiate porco diaz padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazioni ma liberaci dal male uno spacco twitch lolo rollo oh lolo rollo spacco twitch è dei nostri salve pensi che si è fatto l'assicurazione al piede hai mai preso a pugno una gallina? no guarda perché avrei dovuto? vai 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 si si raga sono it a 100-100 questi e zachito non si fa assolutamente intimidire ha il grido di sono il mio scroto prosegue pazzo direi let's go ciao chiusura sono cattolico ho 16 anni e ti vorrei invitare a non bestemmiare e incavolarti con bambini di 5 anni e giochi del genere ecco perché la pami non te l'ha da più merda ma tu sei triste perché l'ostia ti è andata di traverso o semplicemente perché hai una vita talmente di merda che devi sputare sentenze in una chat visto che sei un fottuto coniglio da tastiera vai in chiesa va coglione invece che scassare la minchia vai vai credi pure alle favole andiamo 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 magari è andata di traverso figa vamos keyboard rabbit non ha la banana non ha la banana non ha la banana allora con calma ho sbagliato non nella bernarda nella bernarda volevo dire merda una brutta storia questa quale non allora un seguito perché dovremmo trovare per favore non ridiamo per così sia miss andrew standing siamo ampiamente in linea buongiorno show lane show lane sottolineatura 5 mesi ciao mi chiamo pietro rossi sì ciao pietro rossi ciao bello come stai grazie mille per l'abbonamento caro grazie come on come on c'è una corona che io non ho capito questa minchia ok hyperdrive virus lo so fare lo so fare lo so fare lo so fare come on come on lo so fare dai i film di Celentano sono bellissimi concentrazione per favore figa lupo d'oro full e buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buongiorno ciao benvenuti alla live mattutina dedicata a fort night come la va ragazzi come la va ci siamo anche oggi potrebbe essere martedì martedì sarà immagino 4 aprile giornata abbastanza tranquilla per quello che riguarda il nostro quando senti cigolare letto perché la prendo per i capelli gli sbatto la faccia contro la testata e me la in culo salutiamo tik tok anche oggi salutiamo tik tok sia il suo che tutti i vari clip che sono state appena fatte sì chissà quella che mi ha linkato tu c'ho pure io no 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 sono vivo questo mi entra questo mi entra eh bravo con la scala dietro wow sei un campione figlio di puttana tanto bravo quanto quella stronza di merda prendere i cazzi in gola porco diaz figlio di puttana bastardo io caro con il glitch della scala porco diaz sei un figlio di puttana spero che muori fai schifo fallito di merda andiamo eh sì lo so che è andiamo i try sono infiniti beta annullato ovviamente pomeriggio saluto subito intanto no non ho bevuto niente di che ho bevuto un paio di bicchieri di vino bianco ma niente di esagerato buongiorno buongiorno CR20 e grazie degli undici iai a salve grazie mille degli undici buon pomeriggio buona Pasqua buona Pasqua ovviamente a tutti ragazzi sì io penso che faccio 15 e 39 penso che mi fermo alle 18 e 30 sindicativamente la mia idea è quella 18 18 e 3 andiamo a prendere la roba andiamo il problema è che hai il pompaforte eh no un tac è un tac bianco eh dio cane anch'io sembra molto empatizzato porto il pane porto il pane ma tanto c'è Ernesto che ormai sembra uno scaricatore di porto quindi ha cominciato questa odissia della bestemmia e niente me le lancia sempre in live e questo è stato salto della meraviglia mara 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 ma orca troia ma che cazzo ci fai nei server europei merda troia merda dai raga ho fatto il tuffo della vittoria ho fatto eh raga ho fatto il tuffo della vittoria raga raga